Andiamo in Afghanistan, oltre un milione di bambini rischia di morire di fame. Dirlo l'UNICEF, il nostro inviato Gianmarco Sicuro ha visitato una clinica di Kandahar dove vengono curati i bambini malnutriti. Vediamo. È un volo umanitario delle Nazioni Unite a portarci a Kandahar, la città dove è nato il movimento dei talebani e una delle più povere del paese. Vogliamo visitare una clinica pediatrica e lo facciamo grazie all'agenzia dell'ONU che si occupa di bambini. La scorta di UNICEF ci proteggerà dai talebani che ne tollerano la presenza. Secondo una stima, più di un milione di minori in Afghanistan soffre la fame e lo capiamo subito dalla folla. Questa madre non ci ha portato il figlio per sei mesi e ora è gravemente denutrito, spiega una dottoressa. Al piccolo viene misurato il braccio ed il rosso indica la malnutrizione. Pesa circa sei chilogrammi, siamo tre chili sotto la norma, aggiunge la dottoressa. Fuori si crea una ressa, decine di donne, tutte col burka, premono per far visitare i loro figli e a tutte viene consegnato del cibo ricostituente fornito da UNICEF. Guardate il grafico, dice un'altra dottoressa. Prima dei talebani ricevevamo 70 bambini malnutriti al mese, ora più di 100, una catastrofe. Poi entra un altro piccolo in gravi condizioni. Non mangiamo da cinque giorni, dice la madre. La donna ci racconta di aver dovuto sposare un talebano a dieci anni, ora ha sette figli. Qui però è meglio non parlare di politica, troppo pericoloso. Proprio davanti alla clinica c'è il cuore dell'Emirato. La base militare è fondata dal Mullah Omar in persona, conquistata dagli americani dopo l'11 settembre 2001 e adesso di nuovo in mano talebana. Oggi avrebbe compiuto 34 anni Giulio. Grazie a tutti.